È stato finanziato questo progetto tramite il Fondo Europeo per l'Integrazione dei Cittadini dei Paesi Terzi che ci permetterà, rivolgendoci a giovani migranti residenti sul territorio aquilano e nei comuni del cratere, a 100 giovani tra i 18 e i 30 anni, per offrire in questo senso la costruzione di nuove competenze per il mondo del lavoro. È un progetto che è stato finanziato in pochi comuni d'Abruzzo e possiamo contare su 137 mila euro, ben 137 mila euro, che ci permetterà anche di assumere per un periodo di 12 mesi tre ragazzi altamente professionalizzati per offrire appunto a questi ragazzi delle nuove competenze e far sì quindi che su questo territorio ci sia una prospettiva di futuro. Gli obiettivi sono quelli di creare occupabilità, intanto far prendere coscienza ai giovani delle proprie abilità, delle proprie caratteristiche, costruire con loro un percorso cosciente di nuove capacità da spendere nel mercato del lavoro e poi in seconda battuta anche quella di creare un rapporto con le imprese del territorio per far sì che queste capacità che insieme costruiremo e su cui prenderanno coscienza ai giovani vengano spese nel mercato del lavoro. Quindi l'obiettivo è sempre quello di creare occupabilità e di creare competenze in questo contesto che è molto difficile dal punto di vista delle nuove offerte di lavoro.